salve a tutti sono rosanna ventura presidente di ombre oggi siamo stati protagonisti dell'appuntamento indovino a chi viene scena con lo spettacolo rosso imperativo nato dalla dall'idea del teatro pubblico pugliese e dal sostegno il patrocinio del comune di gioia del colle e dell'assessorato alla cultura che ringraziamo per l'opportunità è una narrazione che parla della cultura dei luoghi e della tradizione del nostro territorio della nostra città in particolare un crocevia di storia e cultura di culture differenti che hanno origine dall'antichità passando per il medioevo per aggiungere ai giorni nostri abbiamo narrato dei personaggi che hanno animato la nostra città e che animano ancora questa città abbiamo parlato dei luoghi luoghi simbolo di questa città come il castello normanno svevo il palazzo dei cassano il museo della civietta contadina e le strade sì perché le strade sono la parte viva della città abbiamo parlato di eventi storici importanti che hanno contraddistinto gioia del colle e che portano il nome di gioia del colle sul territorio nazionale e internazionale parliamo di federico secondo dell'imperatore federico secondo parliamo